E qua stiamo nell'Atlantide, la fuga dell'Atlantide. Ciao a tutti, benvenuti nuovamente sul nostro canale. La scorsa volta vi abbiamo portato con noi nella fuga dell'Atlantide, una giostra di Gardaland che è costata 15 milioni di euro. Il video completo lo trovate sul nostro canale. Se i nostri video vi piacciono non dimenticate di iscrivervi alla pagina, che è un grande supporto per continuare le nostre avventure in altri parchi. Poi vi abbiamo portato a Jumanji, una delle ultime novità, e se non l'avete ancora visto potete trovare il video complice sul nostro canale. Questa volta vi porteremo dai Corsari, una giostra aperta nel 1992, come i Corsari, che viene successivamente aggiornata con una nuova trama nel 2018, anno in cui viene rinominata i Corsari La Vendetta del Fantasma, i visitatori esplorano il mondo dei pirati e affrontano un'avventura tra galeoni, tesori e fantasmi. Una bella grotta. Andiamo a 4-5 piani sottoterra. Andiamo a 4-5 piani, Fanno un po' di ritardo E' uno del bingo? Non gli è arrivato da bere E' uno del bingo 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 E' uno del bingo